Oggi farò il cioccolato denso come il ciobar. Per farlo avremo bisogno di 500 ml di latte 2 cucchiai colmi di cacao amaro 1 cucchiaio di zucchero semolato o di canna 3 cucchiaini di fecola di patate Cominciamo con il mettere all'interno di una pentola una parte di latte più o meno metà Mettiamo all'interno lo zucchero Mettiamo tutto il cacao e la fecola di patate Con una frusta mescoliamo il tutto Una volta aver ottenuto un composto privo di grumia andremo ad aggiungere tutto il latte Mescoliamo nuovamente Adesso dobbiamo cuocere il composto a fiamma molto bassa sul fuoco per qualche minuto fino a che la cioccolata si addensi completamente Una volta aver cotto la nostra cioccolata Andiamo a servire E questo è il risultato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti